Senza misure rigorose durante le feste ci ritroveremo a febbraio con una terza ondata peggiore della seconda. È il concetto che va ripetendo il ministro della salute Roberto Speranza. Il governo ha emanato il decreto che blocca gli espostamenti nel periodo delle festività natalizie, composto da due soli articoli e approvato dal CDM iniziato verso le 22 con più di un'ora di ritardo, cornice normativa del prossimo DPCM in vigore dal 4 dicembre. Vietato viaggiare tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, vietato lo spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio e vietato recarsi nelle seconde case. A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino. Il governo ha anche allungato la durata della validità delle misure anti-covid. In primo luogo, si legge nel decreto, si interviene sul termine massimo di durata che da 30 diventa di 50 giorni, delle misure per fronteggiare nel modo più efficace l'emergenza. Il blocco degli spostamenti non impedirà comunque nel periodo natalizio di tornare a casa propria. Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà più spostare neppure tra regioni gialle. Saranno permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza o domicilio e sempre e comunque per tornare alla propria abitazione, si legge nel decreto. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. No a spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno, il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio, sarà proibito anche spostarsi dal comune nel quale ci si trova, che sia quello di residenza, domicilio o meno. Nel DPCM si legge. A Natale stop a seconde case fuori regione, stretta agli spostamenti verso le seconde case nel periodo delle festività, come prevede il decreto legge Covid. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà consentito tornare presso la propria abitazione fuori regione, ma non ci si potrà spostare verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 anche ubicate in altro comune. A Natale, possibili misure restrittive non legate a colori con i DPCM del periodo del 21 dicembre al 6 gennaio, si potranno adottare misure restrittive per tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle fasce di rischio caratterizzate dai diversi colori, si legge nel DL. Restano chiusi i bar e i ristoranti dalle 18 che però a Natale, Santo Stefano, 1 e 6 gennaio saranno aperti a pranzo su insistenza di Davide Faraone di Italia Viva con il limite probabile dei quattro commensali. Mentre la novità è la chiusura dei ristoranti negli alberghi per la serata di Capodanno, un modo per evitare un escamotage a cui molti stavano ricorrendo per festeggiare l'ultimo dell'anno fuori casa. Coprifuoco fissato alle ore 22 fino alle 5 del mattino successivo, se non per motivi di necessità, lavoro o salute, anche a Natale, fino alle 7 a Capodanno. A rischio quindi il cennone della vigilia anche nelle case, in modo da evitare tavolate tra parenti e spostamenti vari. I bar e i ristoranti chiuderanno alle 18, come avviene ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbe diventare tutte le altre entro le festività, ma potranno restare aperti per il pranzo di Natale, Santo Stefano, 1 e 6 gennaio. Inoltre, con il coprifuoco confermato alle 22, le messe natalizie inizieranno entro le 20, si dovrà concludere presto entro l'orario per rientrare a casa per il coprifuoco alle 22, quindi l'inizio delle messe sarà alle ore 20 e 30. I negozi potrebbero restare aperti fino alle 21 per permettere di allungare lo shopping natalizio con ingressi sempre contingentati per evitare gli assembramenti. I centri commerciali saranno aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizie. Niente vacanze di Natale sulla neve e niente crociere, chiuse le piste da sci. Il governo è intenzionato a non consentire l'apertura degli impianti sciistici per il rischio assembramenti. Il ministro Speranza ha ribadito che il problema non sono gli impianti, ma le situazioni di socialità che inevitabilmente verrebbero a crearsi. Per chi torna dall'estero dal 20 dicembre potrebbe scattare la quarantena, una misura pensata soprattutto per chi voglia andare a sciare in Svizzera, che ha tenuto le piste aperte o in paesi dell'Unione Europea come la Slovenia. Tra i nudi da sciogliere c'è sicuramente la questione della scuola. Il premier insiste per riaprire le superiori il 14 dicembre, ma non trova tutti d'accordo. Le lezioni torneranno in presenza con ogni probabilità dopo l'epifania, ossia il 7 gennaio. Nel prossimo DPCM ci saranno misure per una graduale rientro a scuola al quale stiamo lavorando in queste ore, ha garantito la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina all'incontro col forum degli studenti e i coordinatori regionali delle consulte studentesche. Altro tema che fa discutere soprattutto all'interno della maggioranza sono i ricongiungimenti familiari con eventuali deroghe negli spostamenti tra regioni, rigorosamente vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Al momento sembra prevalere la linea dura, vietato viaggiare per ricongiungersi con i parenti, luoghi in cui non si è residenti, salvo ragioni di necessità come assistere un genitore solo, che richiederanno l'autocertificazione, come spiega il sottosegretario DEM alla salute Sandra Zampa. E due congiunti che abitano in due regioni diverse ma gialle e partono prima del 20 dicembre potranno vedersi. E per restare in famiglia l'altro dibattito in corso è sul numero di persone a tavola durante le feste. La raccomandazione che prevale è quella di pranzare e cenare solo con i conviventi e la stessa Zampa a precisare non indicheremo limiti per il numero di persone a tavola ma sconsiglierei di aprire ai non conviventi un lungo braccio di ferro nella maggioranza sulle nuove misure anti-covid che dovrà approvare a breve il governo. Dopo l'incontro di ieri tra Conte e i capi gruppo nella successiva riunione con i capi delegazione è emersa la necessità di adottare un atteggiamento più rigido sulle eventuali aperture. La bozza del DPCM con le nuove misure per il contrasto al contagio da covid deve essere inviata alle regioni perché abbiano tempo per formulare rilievi prima della firma del premier Giuseppe Conte attesa nel pomeriggio di oggi giovedì 3 dicembre. Le misure in ogni caso saranno in vigore dal 4 dicembre.